Giovani film makers sul Tirreno Cosentino? Si può fare, succede a Verbicaro dove un manipolo di ragazzi si è messo in testa di realizzare un lungometraggio per le vie del piccolo comune montano per poi offrirlo in prima visione ai propri concittadini in una delle prossime sere d'estate in piazza. Un semplice passatempo o un modo per mettersi alla prova per poi aspirare a qualcosa di più, magari entrambe le cose. Il progetto nasce, abbiamo fatto un cortometraggio già nel 2010 per proiettarlo sempre qui a Verbicaro e dopodiché ci è piaciuta l'esperienza e abbiamo pensato di realizzare un lungometraggio. L'anno scorso abbiamo iniziato a realizzarlo però poi per svariati motivi non siamo riusciti a portarlo a compimento e quest'anno però ci siamo prefissati di cercare di terminare questo progetto per poi proiettarlo in piazza. Questa la trama del progetto La Fenice. La trama si sviluppa su un genere poliziesco mafioso, c'è la lotta tra due clan e in più ci sono le indagini della polizia e siamo un film d'azione nello stile più o meno di squadranti mafia, non so se qualcuno di voi l'ha visto. La trama si sviluppa su un genere polizia la trama si sviluppa su un genere polizia e sia piaciuta per prendere il suo genere polizia Grazie a tutti.